Mamma, mamma, voglio l'ultimo FIFA No Dai mamma, ti prego, ce l'anno tutti Ti ho detto di no, Fede Dai, ti prego, ti prego, ti prego Fede, ti ho detto di no, continua a fare i compiti Mamma? Oh, vedi che sono arrivato a Las Vegas Ah mamma, come stai? Aspetta, aspetta che ti posto lo zio Mario Ehi, pronto, come stai? Ehi, come va? Ehi, tutto a posto, sì, sì, sì Ascolta, devo andare al lavoro, ti passo a zia Maria Ehm, schifo Ah, come stai? Oh, aspetta, aspetta che ora ti passo il cugino Mario Sì, però devo andare Uè, Mario, un momento, aspetta, ti passo a nonna Maria Eh, a nonna, come va? Eh no, io vado No, aspetta, nonna, aspetta, aspetta Aspetta 20 euro Ma che siete a cattogelato? Ah, sì, è il cioccolato È il cioccolato È il cioccolato Oh, è il cioccolato Certo che l'ho fatta Dov'hai? Federico, gira il sugo Lo sto già facendo Raga, qualcuno vuole altra pizza? Mmm, sì, sì Ovvio, a me due non mi sono bastate Mmm, sì No, raga, sono pieno And where are you from? I am from California Oh, cool Where are you from? I'm from Italy Italy? Are you in the mafia? No, 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 no